Un parco tematico rivolto soprattutto ai bambini dai 2 agli 11 anni di età i quali potranno interagire con genitori e insegnanti. Attraverso il gioco i fanciulli potranno apprendere le nozioni fondamentali della corretta circolazione con la conoscenza dei segnali stradali e l'utilizzo di veicoli ad hoc, elettrici e a pedali. E' quello dedicato alla sicurezza stradale, denominato Giocando, si impara, promosso e sostenuto dalla Prefettura, dal comune di Comiso, dall'aeroporto Piola Torre, dall'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. L'apertura del nuovo parco, in un'area ex USAF, nasce dopo la sottoscrizione del protocollo d'intesa siglato lo scorso 15 novembre e finalizzato alla prevenzione degli incidenti stradali. Tale protocollo aderisce al Piano di Azione Europeo relativo alla sicurezza stradale per il decennio 2011-2020 che ha l'obiettivo di dimezzare gli incidenti sulla strada. E' un progetto educativo, si chiama Giocando si impara, ecco, già dall'età dei 2-11 anni i giovani studenti, i bambini verranno in quest'area, in questo parco, dove cominceranno le prime nozioni di cogi della strada, ecco, giocando con delle macchinette elettriche, delle macchinette a pedale e dove impareranno le nozioni che sono i futuri nostri utenti della strada. Questo primo step è rivolto ai bambini dai 2-11 anni, ma poi sarà esteso ai ragazzi dai 11-18 anni. Ecco, in particolare nella fascia d'età ai 14 anni che si accingono a prendere la prima patente, il patentino, e dopo ai 18 anni per la patente tradizionale dell'autovettura. I bambini potranno dire alla loro anche i loro genitori, i adulti, come si sta sulla strada. Purtroppo noi siamo molto indisciplati, in questo contesto non diamo un buon esempio ai bambini. Questo parco, essendo notevolmente grande, ci permetterà nel prossimo futuro di allestirlo come un parco per bambini e non, dove metteremo dei giochi. Stiamo progettando di fare dei percorsi per lo sport e quindi cercare di mettere insieme bambini e genitori affinché la collaborazione fra noi e loro possa crescere sempre di più nel futuro e quindi dare la possibilità a tutti di collaborare e fare qualcosa di buono un pochettino per la società futura. Voi metterete a disposizione anche i mezzi ai bambini per poter effettuare questo percorso? Sì, certamente. Abbiamo preso alcuni mezzi a pedale, elettrici, quindi motorette, macchinine, affinché i bambini che verranno, che saranno nostri ospiti, la mattina stiamo pensando di invitare le scolaresche, soprattutto le scuole elementari e nel pomeriggio far venire i bambini con i propri genitori e quindi tramite i nostri collaboratori dargli una mano e cercare di insegnare loro come si deve guidare in maniera responsabile e consapevole.